1928, il dirigibile Italia raggiunge il Polo Nord. 1968, De Gaulle lancia un ultimato in TV a studenti e lavoratori. 1900, nasce Eduardo De Filippo. Commenta il fatto del giorno Alberto Melloni, storico. Oggi parliamo dell'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915, del barciare dei nostri bisnonni verso quella frontiera e verso una guerra di cui non sapevano delle conseguenze nella portata.